Eccoci qua! Ora che abbiamo fatto mini colazione con il brioche fatta in casa, gluten free, lactose free, buonissimo muffin, doppio cioccolato. Ora stiamo andando a prendere il pullman. Allora stavo dicendo prima che per ora siamo a Malpenza, siamo arrivati alle 7 e un quarto e ora dobbiamo aspettare il pullman che ci porterà a Bergamo. Mi aspetti qua, quindi vado in bagno. Si, ci porterà a Bergamo e da lì andremo a casa. Siamo in Italia, a Brescia e staremo qua fino a giovedì sera. Poi torneremo a Budapest. Siamo qua per lavoro e anche per visitare la family. Ok, siamo a Alizeo, a vedere il bellissimo lago. Qua fa un caldo pazzesco. Ci saranno secondo me 29, che tanto so, 30 gradi. Questa è un caldo, dopo i caldotti, fin'altro. Un caldo è un caldo con l' tymale non mai più. I caldo sono il caldo. Seguimando in un caldo è il caldo. Rispira, respira su queste manioli gelati. Day 2 Stiamo andando a fare il caffè A fare il caffè E ora iniziamo la creazione di gelato E qui c'è l'occasione E qui c'è l'occasione C'è l'occasione A fare il caffè A fare il caffè E un pozzo C'è un pozzo E un pozzo E un pozzo È un pozzo Il nostro posto preferito Il caffè Il caffè È un caffè A nostra posto preferito stavo raccontando prima intanto siamo arrivati in montagna che nel bar quello che avete visto prima è quel bar perfetto da dove è proprio tutto carinissimo stile montagna bellissimo l'unica cosa che ha che è che la porta del bagno è difettoso siamo stati lì almeno cinque volte da cinque volte sono rimasta dentro staccata in bagno tre volte perché la prima volta vabbè non sapendo io ho chiuso la porta chiave solite cose apro non si apre più niente dopo è arrivata la signora a salvarmi il proprietario bene la prossima volta dicevo non chiudo più la porta a chiave perché avevo paura che non aprisse più infatti non ho chiuso però sono rimasta dentro di nuovo senza ragione io non lo so come beh oggi però è andata tutto a perfezione non ho chiuso anzi ho lasciato ho lasciato anche un piccolo buco perché niente non si sa mai e ora che abbiamo fatto un breve giro abbiamo visto la natura rinascere fantastico questo periodo forse uno dei migliori c'è poca gente un silenzio perfetto vedi proprio come cambia quasi al minuto come scioglie tutta la neve vedi i fiori gli animali che escono dalle tane veramente fantastico insomma ora abbiamo anche fame focaccia senza glutine con sulla superficie pomodorini ma sono ripieni o no? è certo imbottita quindi ripiena di prosciutto cotto maionese e insalatina sounds good siamo fermati qua random in questa miniera che si può visitare e tante volte che siamo passati qua ma non siamo mai entrati ok abbiamo saltato perché la visita dura due ore devi attrezzarti un attimino perché giù non so ci saranno 5 gradi allora vabbè adesso sì però la scarpa non adatta però preferisco mettere qualcosa un po' più giusta insomma torneremo l'estate quando fuori fa 40 gradi e qua dentro fa 5 sarà un bell'avventura nel prossimo vlog alla miniera non siamo andati siamo al torbiere miniera meno 10 torbiere più 50 minchia maniva con la neve qui c'è il lago da fare il bagno abbiamo fatto i quattro stagioni in due ore sono venute qua a Brescia e fate tutto in due giorni l'ultimo giorno e siamo a Brescia Brescia città e ora mi sa che o andiamo a bere un caffè o mangiamo un gelato ok dopo questo breve giro è ora di tornare mettere la valigia in macchina e via via, bule presto ciao bello vieni a cocolarmi yeah non mi fai mai? ciao 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 ciao